E io sono il vostro telegiornale che oggi vi spiegherà come fare determinate cose belle. C'è stato una sorta di strana cosa alla casa del nostro vicino Sortorio. Un mostro è entrato in casa e non solo, guardiamolo tutti. Come potete vedere gli ha cagato per terra. Il che non è positivo, blu dei Rainbow Friends. Che cosa sta facendo? Oh mio Dio, tutto ciò è in diretta streaming. Sta cagando ancora, il che non è positivo, ma sta andando al piano di sopra. Vediamo che cosa ha in mente questo blu dei Rainbow Friends, che non riesce a salire con l'ascensore. Sta andando in bagno, forse perché ha la diarrea. Questa non è un cesso, è una scala, infatti è cagato vicino. Molto male, ragazzi. Come mai il signor Spruz, o come l'ho chiamato, non ha il cesso? Tutto ciò è molto strano, infatti andrà indagato dalle autorità competenti. E quindi noi adesso andremo a capire meglio cosa sta succedendo qui. Oh no, blu dei Rainbow Friends mi ha preso il posto, ora come farò? È lui che sta facendo le cose, mi sta pure cagando. Oh no, che brutta cosa, aiuto. Accipicchia. Dicevo, diamo la parola al nostro dottor Giangibirtu, che fa bravo in mostri, a quanto ho capito. Signor Giangibirtu, vale la parola. Dottore, si sente bene? Dottore, non capisco quello che mi sta dicendo. Dottore, mi dica, qual è il problema di questo signor Rainbow Friends che invade le case dei vicini? Eh, io credo che i problemi siano tanti e astrusi. Uno fra questo è il fattore culo. Il fattore sedere è molto importante. Il signore è nel suo momento di calore. Eh, signor dottor Cipri, non capisco, però non mi importa, perché noi qua non dobbiamo assolutamente parlare di queste cose. Lei ora mi dice come si permette a insultarmi. Signore, non possiamo fare come in studio per davvero, cioè non siamo alla barbara, capi? No, no, no. Io mi vendicherò di lei. Sì, e se prova cringe, beh, è nel posto giusto, al momento giusto. Come dice il signor, scusate, come dice il signor Circe, se provate cringe, beh, questo è il posto giusto, perché questo è il posto che fa per voi. Dunis, e stiamo su tuttis. Abbiamo un altro problema all'esterno, l'ufficio segnalazioni meteo ce lo sta dicendo. C'è il cavaliere dell'apocalisse che sta viaggiando sulle saette, andiamo a vederlo immediatamente dopo le pubblicità. Pubblicità! Non ho mai visto una caverna così profonda. Forse! Qui a dentro posso trovare la mia ciba. I miei diamanti. Uffa, è da ore che sto viaggiando, sono così stanco. In realtà sono passati solo due secondi. Come farò ora? Ho proprio bisogno di qualcosa. Ma che cos'è successo? E' apparso questo piccone. Ho raccolto lo spaccamamme 3000. E' proprio qui dietro, ci sono dei diamanti. Oh mio Dio. Sono proprio felice di poterli raccogliere. Oh, che bello. Spaccamamme 3000. Alza. Prova. Spacca. Viaggiando da ore su Minecraft sei stanco ed assetato? Hai della palude ma non ti basta? Vedi una pecora ma non si può bere? Ho il prodotto che fa per te. Granitables. Mi fa sentire così gratificato. Prova anche tu Granitables. Per un volo fra le nuvole. Eh, il mostro, dobbiamo far vedere il mostro. Guardate le immagini. Qui abbiamo un evento mai visto prima. Dottore, ma che cosa ci falli? Non dovrebbe essere lei. Stai zitto. Proglodita, non vedi che sto parlando col mio bagnale? E volevo dire cavallo. Io conquisterò tutto il mondo con questo signorino che mi ha appena infilzato. Giantrullo, silenzio per favore. Beh, è arrivato il momento di vendicarsi. Farò esplodere questa bella casetta. Voi, poveri illusi, dovrete pagarmi milioni. Signore, non funziona così. Io glielo sto dicendo. Lei dovrebbe forse cercare di ragionare. Perché se lei distrugge la casa, ovviamente, lei deve pagare. Non noi. Ma che cosa sta dicendo? Da quando in qua? Io faccio questo lavoro da truffatore da anni. So come funziona. Non mi dica bagianate. Ma lei ha distrutto una casa per caso? No, ma c'è sempre la prima volta. Allora, facciamo così. Le offro una cena con un bacio appassionato. Oh. Eh, lo so che le piace, vero? Vai, vieni, dai. Non farò distruggere questa casa anche perché non ho salvato il mondo. E volevo dire, perché sono buono. Certo che sono veramente creativo, vero, Cavalluccio Giartullo? Rispondimi quando ti parlo. Non c'è fare queste vocine, però. Veramente è una faticaccia. Ciao. Non so perché ho questa cosa nell'inventario della creativa. Beh, però io sono una persona molto importante perché lavoro qui. E continuiamo con le nostre previsioni di oggi. Previsioni del tempo. Illustrate dal nostro dottor mangia frutta. Prego, dottore, ci illustri. E il dottore, chiaramente, sono io. Su il versante ovest avremo nuvole. Tutto bianco. Su il versante est avremo nuvole. Tutto bianco. Nord-sud tutto bianco. Come questa parete. Solo nuvole. Nuvole. Le temperature saranno nuvole. con pioggia di apocalisse e di cavalli scheletrici. Infatti, prima avete visto un cavallo che era strano. Quello era per via del cumulo temporalesco. Se provi cringe, sei nel posto giusto. Perché non ho voglia di fare video. Ma mi diverto a farli. Oh, sì. Oh, oh, oh. Oh. Mi piace tro... Scusate, c'è stata un'interruzione del programma. Perché semplicemente è successo un casino nello studio. Guardate, è meglio che non ve lo sta a raccontare. E andiamo al prossimo evento di oggi, purtroppo. Che è successo? Una povera persona scomparsa nel nulla. E quando dico nel nulla, è veramente nel nulla. Cioè, io non so dove si trova questa persona. E nemmeno i nostri cameraman. Gino, scusami un attimo, ma perché c'è di nuovo lui? Oh, è questa la persona scomparsa. E che cazzo vuoi da me? Gino, non dire ste cose, dai. Sei scemo. Senti un attimo a me. Allora, quando la pazienza è troppa, è troppa. Hai capito? Io non sto qua a rompermi con io. Allora, io se ti sto dicendo che la cosa è vera. Ebbè è vera, eh. Vediamo la persona scomparsa che sta effettivamente raccogliendo dei fioricini. Li sta annusando, a quanto sembra. E questo dovrebbe essere blu dei Rainbow Friends. Non capisco il perché questo comportamento è molto strano. Non capisco da dove sia scomparso. Forse dal gruppo, chiaramente. Sì, certo. Non è una cosa che mi sono appena inventato, perché non so cosa dire. È scomparso dal gruppo dei Rainbow Friends. Infatti c'è solo lui qua. Ed è solo che cerca i fiori. E non so come noi facciamo a vedere queste immagini. Le vediamo, perché i nostri cameraman hanno la magia. And I will always love you. Mio Dio, mi sa che ho svegliato i vicini. Fuori dal roleplay, incredibile come io abbia cercato Maranza. E c'erano effettivamente le skin di Maranza. È straordinaria questa cosa. Vi prego, vi amo. Chiunque l'abbia fatta, lo amo. Lo sappia. Uffre. Fra, hai sentito dove sta quello studio televisivo? Fra, bro, no. Non lo so. Uffre, sto vedendo qualcosa dietro di te. Uffre, anch'io. Andiamo a vedere. Vai, Fra, salta, salta. Che chi salta, salta. Uffre, ma spiegami una cosa. Siamo diventati russi. Ma perché stiamo parlando così? Perché stiamo cercando uno studio televisivo? Fra, bro, dai, è la prima cosa, Fra. Fra, non ho capito. Dimmi. Fra, lì nascondono le macchine studio affrighi, quelle che costano tanto, Fra. Andiamo a fare brutto a loro, Fra. Oh, Fra, buona idea. Oh, Fra, l'ho trovata. Oh, intascatela. Andiamo. Purtroppo abbiamo avuto un furto nel nostro studio, molto importante. Però non è importante per davvero, perché costa tanto poco quella cosa. Costava due euro. I sospetti si rivolgono verso due maranza che si dice siano, ehm, ehm, boh. Non so cosa sia successo in realtà, però non si può dire cosa è successo. Dai, comunque, top serie 2023, 2022, 2023, dovete tutti quanti, cioè, amarmi troppo, perché cazzo, cioè, dai, le sferie bellissime. Venterò famoso. Venterò famoso.